Sesta edizione del Festival del Diritto che avrà luogo a Civitanova del Sannio il prossimo 27 agosto. Il festival nasce con l'intento di riflettere e approfondire tematiche di diritto, pace e sviluppo mirando a valorizzare le tradizioni, le peculiarità e le risorse di Borghi Molisani. La presentazione in conferenza stampa al Conservatorio Perosi di Campobasso il tema diritto al cibo, salvaguardia del creato e impresa territoriale. Abbiamo pensato di intervallare questo momento formativo con momenti anche più lucugliani. La sorpresa assoluta è che quest'anno avremo la presenza di Giulio Ripetti Mogol, il noto autore. Avremo in videocollegamento la presenza di Lino Banfi, di Lorena Bianchetti e sostanzialmente la loro partecipazione per favorire questa raccolta di beneficenza. L'edizione del diritto mi vede coinvolto sia dal punto di vista della Santa Sede in quanto gentiluomo che è una carica onorifica ma mi tiene vicino alle vicende della Santa Sede e all'interesse del Santo Padre Francesco ma di tutti i papi, io ricordo già da Paolo VI in poi questa ricerca non solo della pace ma della sconfitta o del cercare di diminuire quello che è lo sfruttamento dell'uomo e lo sfruttamento sbagliato nei paesi terzi soprattutto ma anche nei nostri paesi. Grazie. 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 Grazie.